Il diciottesimo album in studio di Vasco Rossi è una struggente ballata rock, una vera e propria preghiera d'amore racconta di una relazione complicata in un crescendo di emozioni è la disperata richiesta di non buttare via tutto per poter ricominciare ricominciare ancora una volta, anche perché altrimenti sarebbe veramente una canzone d'amore buttata via Grazie a tutti